Nei giorni scorsi il presidente del circolo ACLI, ora et labora di Fossato di Vico, professore Santi Pirrami, ha ricevuto la notizia che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha deliberato un finanziamento di 5.915 euro per la realizzazione del progetto I nonni si raccontano. L'intento è quello di coinvolgere attivamente gli anziani soli o a rischio solitudine residenti nel comune di Fossato di Vico, dando loro una voce e facendogli raccontare storie, aneddoti e curiosità. Verranno raccolte le testimonianze e le storie di vita dei nonni che saranno poi rielaborate, trascritte e rese pubbliche con un opuscolo. Diffondere le loro conoscenze e sensibilizzare la cittadinanza all'importanza dell'ascolto delle persone anziane è l'obiettivo primario, oltre alla possibilità di non far perdere un patrimonio di memorie storiche che sono le radici autentiche su cui si riconosce e si fonda un territorio. Il progetto partirà il prossimo 11 gennaio.